ciao a tutti tretti e benvenuti in questo 58esimo episodio della serie america posso farmi simulator 2017 ho appena terminato la raccolta c'è la semina dei pioppi adesso portiamo a casa il nostro massey e andiamo a farci l'acquisto che avevamo scelto che hanno deciso di farci ecco allora in teoria avrei mi sono finito il campo di mais mi pare perché ho messo l'automatico dovrebbe aver finito adesso andiamo a dargli un attimo un occhio ce la fa ok allora eccoci qua tra l'altro ha messo pioggia adesso quindi è meglio stare un po all'occhio dai ce lo piazziamo qua ok no la trebbia non ancora finito va bene portiamogli la al fend così che in caso gli da una mano dai dai se si svegliasse devo dire che ne abbiamo fatto anche parecchio e siamo già 25.000 litri 25.000 sì litri vabbè qua non state a guardare la realtà perché veramente non c'è nulla di reale andare in mezzo al campo allora facciamo un attimo una previsione dei mezzi allora qui c'è il manito qui il jcb eccolo qua piccoletto per il campo la io intenzione di prendermi l'irroratore magari quello più piccolo per il momento 15 metri questo qua ne fa 28 sapete che non so sono indeciso veramente tanto 95 cavalli questo qui non ne richiede non richiede cavalli c'è cos'è sta roba si non richiede nulla stranamente aspettate che mi sposto no scusate mi sposto il fend che giustamente me lo sono spento qua in mezzo al campo vabbè lo lasciamo un attimino qua in teoria c'è l'offerta del mais 15 va bene aspettate un attimo l'offerta del mais così che lo andiamo già a vendere mai so che gol crest no non è lì ridge acres o al treno al treno ci vorrebbe di più vediamo un po l'altra dove cavoli si trova ok vabbè lasciamolo qua noi andiamo sul eccolo qua il new holland e andiamo a comprarci l'attrezzatura per la fertilizzazione del campo per l'irrorazione del campo io direi di fare un acquisto che ci permette cavoli le sbarre del treno un acquisto che ci permetta di avere un vantaggio anche in futuro quindi direi di lasciar perdere più piccola non direttamente su quello grande secondo me è un'ottima scelta perché ci costa il doppio però non dobbiamo stare lì a rivenderlo per comprarci quello più grande perché ce l'abbiamo già vabbè dopo più avanti ci compreremo naturalmente la la new holland però più avanti tra l'altro non so se questo video uscirà di venerdì perché può darsi che non riesco a caricarlo e lo vediate o sabato domenica adesso vedrò perché uno dei due giorni ci sarà la serie con la pola a no cavoli però anche la la serie made in italy quindi no uscirà venerdì in questo episodio per forza dovrà uscire a venerdì a tutti i costi comunque vediamo un po dai andiamo nell'altra corsia buono 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 so che sono degli episodi in cui facciamo poche lavorazioni però per ora è così poi dopo quando avremo più mezzi potremmo occuparci di più lavorazioni soltanto che passano in solo cinque minuti per arrivare allo shop cavoli allora avrei utilizzato anche il fendi avrei messo le ruote strette però direi di utilizzare questo per il momento vi ha già le ruote strette di default c'è le abbiamo già messe noi vi ringrazio ringrazio principalmente i due ragazzi che mi hanno mandato la screen del cartello qua che non bisogna entrare però c'è ancora cavoli va beh la toglieremo prossima volta che passiamo con un magari col mani tu allora vi ricordo che devo ancora fare l'episodio con la di sboscamento su nella zona però a breve arriverà allora qui poi ci sarebbe spandi fertilizzante ma non va bene per il momento andiamo sul irroratore 71 mila euro il caruel nicolas si sembra un nome un nome di persona può darsi eccolo qua è più grande del nostro new holland però devo dire che non è affatto male le ruote però cavoli e sono un po larghe però ci passa in mezzo al campo ci passa eccome per chi non l'avesse capito andremo a irrorare il campo quello seminato con i pioppi adesso facciamo una breve sosta in farm guardate che bello mamma mia qui cavoli c'è su una protezione in plastica e quindi presumo sì c'è anche di qua mettiamoli lampeggianti a sto punto c'è è quasi notte bisogna accenderli per forza comunque è bello grosso eh veramente mi aspettavo più piccolo invece no allora allora anche lo sterzo forse no non mi pare mentre la new holland l'irroratrice mi pare che quella abbia lo sterzo comunque arriveremo a comprarceli eh e vi dico già che mi sa che questa serie se andrà avanti così siamo quasi già al 60esimo episodio mi sa che andrà avanti oltre i 100 perché l'obiettivo dovrebbe essere per me sarebbe arrivare a 100 episodi perché abbiamo tante cose da fare quindi ci sta però mi sa che andremo anche oltre perché come vedete sta durando parecchio ora che scopriremo tutti i mezzi durerà un casino di episodi comunque vi dico già che prossimi episodi sarà barbabietole molto probabilmente sì dove abbiamo tolto adesso il il come cavoli si chiama il mais ecco o magari anche nell'altro campo più grande no facciano il campo della soia seminiamo lì le barbabietole seminerò io e poi dopo ci occuperemo della raccolta più che altro però per ora partiamo con i mezzi un po' più più scarsi allora la trebbia dovrebbe aver finito quindi siamo a posto questo qui andiamo a riempire mi sa che ci fregherà un bel po' di soldi siamo già 46 mila euro perché costava anche tanto è 71 mila euro allora adesso vediamo se mi ricordo qui ci va il liquido e in teoria il liquido è in questo qua nel serbatoio mentre gli altri sono delle specie di imbuti allora non vorrete dirmi che scusate avviciniamoci un pochettino di più dobbiamo andargli praticamente contro ok riempiamolo per bene adesso quando sarà pieno non riuscirò più a sposta a spostarlo ok per la screen ok sei pieno no non è ancora pieno cavoli eravamo a 41 mila c'è mangiato 3 mila euro più o meno forse un po' di meno 8 mila euro per riempire ma siamo pazzi cioè che cavoli gli ho messo dentro oro no non lo so io eh ma vi sembra mamma mia quanto cavoli costa cioè non lo compro più un mezzo così cioè ormai basta l'abbiamo pagato vabbè me l'avete detto che costava molto dei serbatoi però non pensavo così tanto facendo il conto allora aspettate il 2 4 mi sarebbe costato la metà mi sa comprando i pallet perché un pallet prende duemila aspettate costa duemila e quattrocento e contiene duemila quelli fertilizzanti allora duemila litri e costa duemila e quattrocento ok quindi avremmo speso quattromila ottocento euro per due due cisterni diciamo mentre qui abbiamo speso il doppio praticamente sapete che mi sa che riesco a prendere tutto il campo adesso vediamo eh cavoli per poco vabbè e iniziamo con l'annaffia con l'innaffiare i campi allora aspettate mi metto bene penso che sarà l'unica e vabbè la striscia di là se caso la lascio perdere guardate che bello il nostro nostro piccoletto se la cavicchi eh dai devo dire che non va neanche mai ecco c'è stato un piccolo problema con la semina che ogni tanto sono messe un po' storte le file ma soprattutto a un certo punto qua sulla mia sinistra ci sono tre file in un'unica fila allora di solito vedete ce ne sono due file per due file per ogni fila è un po' un controsenso quello che sto dicendo però è così mentre in certi punti ci sono tre file nella stessa linea ecco cambiamo un po' il nome comunque il caruelle Nicolas qua va da dio direi di abbassarlo un pochettino buono direi di fargli una screen anche qua così al lavoro ok ci sono ci sono ci sono ragazzi facciamone due che non si sa mai ok cavoli sto sprecando con c sto sprecando fertilizzante e vedo anche che va giù molto veloce vabbè siamo al 95% cosa abbiamo fatto andare un 200 litri però cavoli no devo usarlo leggermente perché vedete pendendo di sotto le sta che cavoli ma io dico perché cavoli continui a muoverti così non hai non stai andando su dalle pietre comunque se questo video uscirà di venerdì ci sarà anche un video di Valentin Rossi the game dato che questo qua durerà veramente poco mi sa durerà sui 15 minuti all'incirca adesso ecco qua vedete ci sono tre tre file vedete una due tre c'è stato un mio errore e c'è un mio errore ho messo l'automatico e lui avendo già fatto la parte qua sinistra l'ho rimesso tutta a destra e mi ha fatto un po' di casini però c'è non è che sia un casino grandissimo comunque dai con i pioppi siamo a posto qui l'altra parte lì non la fertilizzo perché col cavolo che la fertilizzo per per la resa che mi darà tanto cosa sono due o tre file tre file vabbè non importa allora torniamoci a casa io ragazzi adesso qua mi farò un sacco di missioni almeno in questo campo qua a destra se riesco perché ho una voglia immensa di comprarmi un paio cioè un bel campo grande e seminarlo lo ha a frumento anche e poi dopo andare a a raccogliere tutto e a vendere tutto io ragazzi penso che farò la cavolata di comprarmi questo campo qua al 5 mi sa tanto di sì oppure il 20 aspettate il 20 dove cavoli si trova ok ritornando a casa ci possiamo passare vicini invece no no allora adesso rifacciamo la strada di casa ci fermiamo qua e andiamo un salto a correre un salto a piedi ma anche se non mi compro proprio il 5 il 26 o il 20 ci potrebbero stare come campi eh allora lasciamo aperta la minimappa che cavoli è la casa del guardaboschi dai li portiamo via no è troppo pesante cavoli portiamo via la macchinetta da falciare l'erba allora il campo 20 eccolo qua abbiamo anche un bel capanno quanto ci verrebbe a costare 700.000 euro cavoli vabbè non è piccolo non è affatto piccolo mentre se io volessi comprarmi cavoli mi son cacciato ok questi qua dovrei comprarmeli a breve adesso io mi farò un sacco ecco qui nessuna mission al momento di sponire perché sta per piovere mi farò un sacco di missioni almeno arrivare quasi un milione di euro le voglio fare adesso qua se mi sveglio ok anche qui ok li comiamo vabbè soltanto fare missioni così ci può anche stare può darsi che ieri sera ci sia stata una live adesso non so ancora però se caricherò questo video mi sa di no perché è il tempo che impiego a caricarlo no vabbè però potrebbe starci una live adesso vedrò può darsi che l'abbiate vista allora terreno numero 26 380.000 euro anche questo qui sarebbe un buon acquisto forse uno dei migliori perché è anche vicino a casa da che costa 300 no 600.000 380.000 ed è scusate vabbè si è un po' più piccolo del campo dell'altro campo però no vabbè è molto più piccolo l'altro era 8 ettari questo qui è molto di meno allora recuperiamo le cavoli poi ci sarebbe anche questo campo qua da poterci acquistare però non so non saprei neanche cosa seminarci se a casa potremmo comprarlo e seminarlo ad erba lo lasciamo lì per l'evenienza magari un campo così ad erba oppure ad abeti sapete come lo utilizziamo lo utilizziamo come campo ad abeti al posto di seminare gli abeti lì vicino in farm li mettiamo lì ci potrebbe stare come cosa in modo da non andare a disbuscare tutte le zone forestali perché sono anche belle da vedere ho fatto quella lì vicino allo shop perché intanto lì non ci passeremo quasi mai e poi dopo andrò a ripiantare le piantine però boh ci può stare e qui ci andiamo eh che cavoli però ho i serbatoi miei vado a comprare il si fertilizzante al nelle cisterne diciamo vabbè si sono stato un po' stupido come come acquisto del 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 si del fertilizzante vabbè ok io direi di fermarmi qui so che il video è corto però avevo poco tempo lo ammetto però presso che cavoli quanto cavoli alto presso che abbiamo fatto tutto il nostro lavoro io ragazzi vi ringrazio per la visione vi saluto ci vedremo nel prossimo episodio che sarà mi sa tanto di lunedì cavoli se è indietro il caricamento qui mi trebbero a tutti i campi e mi seminerò già non so se tutti però una buona parte a barbabietole ragazzi vi saluto vi ringrazio e noi ci vediamo domani con un possibile video sulla made in italy adesso ancora da vedere o made in italy o serie polacca la poland farm io vi saluto vi ringrazio lasciate tanti like commentare condividete il video e iscrivetevi al canale se non è ancora fatto ciao a tutti toretti e al prossimo video e iscrivetevi al canale